La tecnologia ci osserva di continuo. Studia ogni nostra mossa. E ora ha concentrato la sua attenzione su Carol Peters. Grazie infinite di essere qui, Carol. Che cos'è? Andiamo subito al punto. Non mi piace. Perché lo sta facendo? Tanto scoprirò chi sei, capito? Carol, andiamo a incontrarlo. Carol, io sono una superintelligenza tecnologica. Posso controllare ogni dollaro e ogni macchina del pianeta. Conosco questa voce, ma è James Corden. Io non sono James Corden, Carol, ma, secondo la mia analisi, sentire la sua voce ti calma. Inviasti un'e-mail a James Corden affermando di essere la presidentessa dei Guardiani di Corden. Per favore. Quella fu una serata dura per me. Oh, cavolo. Ho previsto di passare i prossimi tre giorni con te. Perché lei? Sei la persona più comune sulla Terra, in effetti. Oh, tutto ok? Sì. Devi contrarre l'addome. Oh, è andata peggio, eh? Che faresti se ti dicessi che il mondo finirà fra tre giorni? Proverei a chiarire con George. Carol, sei un incanto. Stranamente elegante. È fatto per lei? Ho una sensazione di panico perché non riesco ad accedere alle mie stesse mani. l'IA che cosa vuole. La mia intenzione è consolidare la mia teoria sull'umanità. Se le cose non andranno bene, distruggerò il pianeta. Lo bombarderò. Hai detto bombardare con la B? Come B? Come Bubble Tea? O Burt Bacharach? Sì, BBB. Oh, misericordia! Mettilo giù subito! Ti dimostrerò che vale la pena salvare l'umanità. Gli umani sono più complessi di quanto pensassi. Contiamo tutti su di lei. Se sospetta di aver capito qualcosa, devi cliccare questa. Può salvare il mondo. Non la clicchi ora. Non intendevo cliccarla adesso. Va bene, ma... Perché dovrei farlo? Ha appena detto... Perché sembra una penna. La gente lo fa quando è nervosa. Ok, abbiamo finito. In fondo è un bel caso. Sono belle persone, non come la mafia russa o... È un bel cambiamento. Eppure questa cosa potrebbe distruggere il pianeta. No, non hai torto. No, no. È un peccato. Non è un peccato.